Rientriamo allora in onda, in questa diretta speciale, nel orario che solitamente dimi ritorni in mente, invece in questa trasmissione senza nome per due giorni ci mettiamo insieme io e Francesco di almeno due pagine al giorno, occupiamo quest'orario per seguire Serre d'Estate. E mentre Francesco stesso in realtà per il momento ci ha lasciati perché semplicemente è a condurre uno degli eventi della giornata che abbiamo appena presentato, andiamo a guardare quello che accadrà invece questa sera. Si parlerà di un romanzo, l'ultimo romanzo del collettivo Vuming, si chiama UFO 78 e abbiamo con noi in realtà quasi un personaggio del libro. Adesso spiegheremo poi meglio che cosa vuol dire tutto questo. Paolo Fiorino, benvenuto su RBA. Buonasera a voi. Allora, in che senso ecco, un personaggio? Nel senso che questo libro affronta una tematica che sono gli anni del riflusso, il 78 in realtà sono 1977 e 1979, anni particolari per quanto riguarda la storia della nostra Repubblica, ma perché nel 1978 si è verificato un evento al di fuori di ogni previsione. Un'enorme ondata ufologica, soprattutto a partire da settembre fino al gennaio del 79, settembre 78, che ha coinvolto miriadi di testimoni, compresi anche piloti civili e militari, carabinieri, forze dell'ordine militare. Basti pensare che noi abbiamo raccolto oltre 2.000 testimonianze e catalogato, che gli articoli che stiamo rimettendo a posto hanno già superato le 3.000 unità e quindi sono tantissimi, con un mucchio di avvistamenti a bassa quota, con tracce, effetti elettromagnetici, blacked out, centrali elettriche impazzite, eccetera. E l'anno in cui nelle sale cinematografiche è andato in onda del film di Steven Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo, in tv era di moda UFO Goldrack. Insomma, tutto un insieme di faccende in un anno che però è particolare, perché al di là di quello come si vede in copertina, che è l'arena di Aldo Moro, e quindi il sequestro, l'omicidio della scorta di Aldo Moro e dello stesso Aldo Moro ho fatto ritrovare, con tutta la lotta armata, lo stato di emergenza in cui si viveva, sono successi storicamente molti eventi particolari. Tra i papi che si sono succeduti nel giro di un anno, Paolo VI, Giovanni Paolo I, che è il papa Luciani, e poi il papa Wojtyla, che è il papa venuto dall'est. Il presidente Leone che è stato costretto a dimettersi per tutto l'insieme di eventi e che è stato sostituito da partini, che quindi per il nostro immaginario è così. O leggi sociali molto importanti, che sono la legge Basaglia per la chiusura dei manicomi, la legge sull'aborto, l'istituzione del servizio nazionale sanitario. E sono gli anni in cui purtroppo sempre più c'è il problema delle sostanze, soprattutto dell'eroina, con tutto quello che è conseguito. La dipendenza, le morti, tante morti, troppe morti, la nascita di comunità particolari per il recupero e il reintegro di queste persone, comunque di cura, tra virgolette, eccetera. E questi sono tanti degli ingredienti che sono effettivamente all'interno di questo romanzo, che ruota per certi versi attorno al rapimento di Aldomoro, anche se non è mai il soggetto specifico. È tutto ciò che accade attorno e appunto uno dei personaggi è ispirato un po' a te, dicevi. Perché comunque per tutto un insieme di cose ho avuto modo di conoscere Roberto Bai dei Wuming, che era venuto innanzitutto una prima volta a casa mia per visionare del materiale sul Monte Musinè. E quindi perché doveva scrivere il libro, un viaggio che non vi promettiamo breve, che presentava un po' tutta la lotta a Notav che lui aveva seguito da vicino anche come militante. E poi in seguito al nostro convegno, che se non era nel 1998 a Bologna, dove abbiamo analizzato proprio l'ondata del 1978 e condiviso con loro questo materiale, perché gli era venuta l'idea di scriverci sopra qualcosa che in parte era già, come si può dire, lì presente, è stata embrionale, però non aveva ancora lì. E poi è venuta addirittura a trovarci nella nostra sede a Torinese, recuperando materiale su quell'anno, intervistando una delle persone che nel 1978 c'era e come una spugna ha recepito molti particolari. Quindi quello che è presente nel libro è in parte inventato, ma è inventato su degli episodi autentici, veri e particolari. Si è qualcosa che si coglie molto dalla narrazione, ovvero si capisce che è un romanzo, che la trama, gli eventi, uno in seguito all'altro sono frutto di invenzione, ma ci sono poi proprio quasi interi capitoli che sono quasi col tono di un saggio. Sì, è un romanzo, nello stesso tempo è un saggio, è una discussione di quel periodo a livello politico-sociale, un po' tutto. È un oggetto narrativo non identificato, come loro amano definirlo. Esatto. Fuori onda ci dicevamo, tutto quel periodo terribile degli anni di piombo, con tutto quello che abbiamo appena elencato, sono rimasti molto lontani dalla nostra memoria, così come effettivamente la questione degli avvistamenti degli UFO. Forse più che quello, il fatto che si fossero create comunità, che si fossero creati gruppi, che fosse una attività seguita, a tutto questo, a me che sono nato molti anni dopo il 78, non ne avevo mai sentito parlare prima di prendere in mano questo libro. Sì, perché comunque io mi occupo di ufologia già da 50 e più anni, ero un pantaloncino anche di più perché ero un ufologo e mi interessavo in pantaloncini corti. Per cui gli ufologi sono nati prevalentemente a Torino, già alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60. Certamente si è dimenticato tutto perché sono anni di cosiddetto riflusso, la memoria storica è molto corta. Uno ci si chiede anche, con tutti gli eventi che all'epoca c'erano di rilevanza, come mai pagine intere sugli avvistamenti UFO, che poi c'erano problemi molto più importanti, c'erano anche altri problemi, c'era una recessione enorme, c'era un PIL che era sotto zero, peggio di adesso, c'era una situazione di, non è che oggi si stia meglio, di disoccupazione alle stelle, no? Perché pian pianino ha preso posto, non si sa bene se uno, oggi che va di molto di modo ai complottismi, se volutamente o meno, giornali come il Corriere della Sera hanno incominciato a dare rilevanza a fenomeni molto personali che vanno nel privato, quello che è la vita di coppia, l'amore, l'amicizia, stamattina io ho scoperto che mio marito se la fa con la segretaria, cose così, no? Fino ad arrivare, che ne so, alla febbre del sabato sera, la discoteca, la disco musica, le nuove cattedrali diventano quelle. Ed è difficile da immaginare, ma anche perché purtroppo ciò che, pur se siamo una Repubblica, uno Stato repubblicano molto giovane, sono tanti i misteri che sono rimasti tali. Non sono gli UFO, sono un mistero. Allora non importa capire che cosa non sono, non sono gli UFO. Perché in quel periodo c'è stato tutto questo? E si cerca di dare una risposta e ambientarlo in questo contesto sociale e politico un po' particolare. Esatto, non tanto soffermarsi sugli avvistamenti in sé, ma sul contesto nel quale si riunivano le persone. Qui è molto importante questo monte, che è il Quarzerone, della Lunigiana. In realtà si riferisce a quello che io, quando è venuto a casa mia, mi aveva chiesto sul mito e folclore del Monte Musinè, che è proprio qui a due passi, lo vediamo qui dietro di noi, no? Che è considerata da sempre una base UFO, un monte magico, ricettacolo, antenna degli extraterrestri, tutto quello che si vuole. E nel 78 c'è stato proprio un episodio di cosiddetto rapimento alieno, cioè un giovane che è scomparso, dopo aver osservato un oggetto a terra, delle sane ombre, eccetera, ed è stato ritrovato a una certa distanza, ben un'ora e mezza, due dopo, no? E il caso è stato inchiestrato e tutto, ma quello che è interessante è che nel tempo è emerso, sono emersi altri casi simili, ma è emerso che in quella zona erano attivi dei gruppi paramilitari di destra, addirittura alcuni erano stati arrestati, altri uccisi a un posto di blocco ad Alessandria e nel castelletto di Almese avevano trovato armi e altra documentazione di questa loro attività. E qui chiaramente emerge poi questi due boy scout che scompaiono, anche qui nel libro si dice sì possono essere attraverso, E poi c'è un epilogo che di solito per Roberto dei Vumi non vuole che diciamo, perché se no si scopre un po' quello che è il finale del romanzo. No esatto, esatto, anche perché tutto il romanzo si gioca un po' sulla concretezza o meno della presenza aliena o meno e quindi rivelarlo. E questo è molto importante perché sono due altri personaggi rilevanti, a parte tutti i vari tipi di ufologi che fanno una classifica, ma non mi sto lì a discutere molto, sono un'antropologa, una certa Milena, che cerca di capire questa subcultura ufologica. Che è un po' interpretata come Iwu Ming, cioè all'interno del libro. In realtà si rifanno un'antropologa. No, però il suo ruolo come personaggio mi sembra. Loro che si mettono nel libro e cercano di studiare queste persone. Esatto, sì, anche se loro si sono rifatti a un'antropologa vera e propria che ha scritto un determinato libro sul reincanto e tutte queste cose qua. E poi Zanka. Zanka è molto importante perché è Peter Colosimo. Peter Colosimo, di cui quest'anno sono stati festeggiati cento anni dalla nascita, che per Iwu Ming ha sempre rappresentato un punto di riferimento, quasi una figura rivoluzionaria con i suoi cosmonauti nella preistoria. In realtà nel libro è un personaggio che va profondamente in crisi, tanto che alla domanda del figlio che gli dice ma tu ci hai creduto, ci credi a tutte le cose che ha raccontato e narrato in questi anni, lui dopo un attimo di tentenamento dice ma di qualcosa dovevamo pur campare. ed è una frase forte che vuole dire c'era poco poi di concreto dietro di questo. Anche lì era una reazione forse. Era una reazione perché lui poi diventa uno dei personaggi principali che dà poi una risoluzione a questo problema dei due Boy Scout scomparsi e tutto quello che ci sta dietro che è purtroppo un'altra pagina molto scura della nostra storia recente. Esatto, quindi appunto decisamente a cavallo, in bilico sul filo tra il romanzo e il saggio, quasi il racconto storico. Non diciamo nulla di più, ricordiamo soltanto appunto per chi ci sta ascoltando che volendo avete l'occasione di arrivare qua fisicamente e espandere ancora questo racconto perché quest'oggi alle 21.30, alle 21.30, sempre qui da Rivalta, ci sarà questo dialogo con appunto Roberto Bai dei Wuming e Filomena Filosottile. Ottimo, ottimo. Grazie mille davvero per questa chiacchierata. Insomma, sia che avete letto il libro sia che non l'avete letto, gli spunti come vedete sono molte, si può approfondire. Grazie davvero. Grazie.